Ci sarà del personale specializzato pronto ad accogliere queste donne per approntare anche un approccio idoneo? Le stazioni carabinieri sono per loro stessa natura appunto di contatto e di incontro con la popolazione. Si tratta di persone che vivono costantemente il territorio, parlano tutti i giorni con la gente del paese e spesso conoscono situazioni anche meglio di altri operatori per il solo fatto appunto che vivono costantemente questa realtà. È ovvio che nel momento in cui ci dovesse essere necessità di competenze ulteriori specialistiche dal punto di vista psicologico, diagnostico e anche sanitario noi siamo i primi a fare intervenire questi ulteriori operatori. fermo restando che anche l'arma ha delle proprie strutture specializzate per la raccolta di determinati tipi di informazioni connessi però essenzialmente alla commissione di reati e ferati. A contezza del numero delle denunce che sono state effettuate presso la sua giurisdizione tra Gela e Niscemi e cosa si può fare invece per stanare il dato sommerso? perché il percentuale delle denunce è sempre una percentuale irrilevante rispetto invece alle situazioni che si consumano realmente purtroppo nei nuclei familiari laddove la donna ha difficoltà a raccontare e a denunciare. Parlando del territorio di Niscemi e del comune in modo particolare i reati che riguardano le violenze domestiche e gli atti persecutori sono circa una ventina. sono dati del 2015 naturalmente e che riguardano le denunce raccolte dall'arma dei carabinieri. Per questo noi ci predisponiamo anche in una serie di misure preventive che riguardano ad esempio il ritiro precautelare delle armi per i soggetti che sono possibili o presunti autori di violenza all'interno delle mura domestiche. E soprattutto mettiamo in contatto le donne con i centri antiviolenza che sono presenti nel territorio ma diamo anche loro un supporto che è di natura oltre che anche di vicinanza che è la classica funzione sociale che l'arma dei carabinieri svolge sul territorio. Ecco l'iniziativa di oggi mira proprio a superare, ad abbattere questo muro di omertà, di vergogna, di ritrosia che molto spesso si annida all'interno delle mura domestiche. Questo evento creato dalle Soroptimist che sono nate a Niscemi circa tre anni fa ma già hanno portato avanti delle iniziative come le scarpe rosse in piazza contro tutte le vittime della mala gestione familiare. Questa è una delle pecuniarità che vive purtroppo la famiglia più che altro al sud laddove la donna non denuncia perché è ancora sottomessa dalla forza maschile dell'uomo che a volte si trasforma in bestia. Adesso un presidio di legalità all'interno della caserma dei carabinieri qualcosa che può dare spazio a chi vuole denunciare specialmente alle donne e ai minori.